Nell'ambito dell'anno berardiano in corso a Teramo al via la prima giornata del meeting internazionale della scienza per la pace. In continuità con la prima edizione del 2021, l'evento 2023 ha affrontato il tema del metodo scientifico da sviluppare in tutti gli ambiti della ricerca e la cui in condivisione da parte degli uomini e delle donne di scienza si profila come via privilegiata per costruire la pace e promuovere lo sviluppo dei popoli, tema più che mai attuale davanti ai recenti sviluppi del conflitto alle porte dell'Europa. Un segnale molto positivo per tutta la nostra comunità italiana, europea, internazionale perché ci sono uomini e donne impegnati nei vari campi della ricerca che vogliono ritrovarsi insieme, confrontarsi insieme e soprattutto rilanciare il desiderio della conoscenza perché senza questo desiderio il Papa li ha chiamati nuovi discepoli della conoscenza. Penso che senza questa rinnovata disponibilità a impegnarsi nella conoscenza non ci sarà più ricerca scientifica ma soprattutto verrà a mancare quel contributo importante che la scienza può dare per trovare soluzioni migliori per costruire un futuro di pace per tutti. Due le giornate oggi a terra e domani a Isola del Gran Sasso? Sì, domani a Isola del Gran Sasso perché questo evento si situa tra gli eventi dell'anno berardiano e San Berardo è nato a Isola dove ci sono anche i laboratori del Gran Sasso dunque direi che domani ci ritroveremo lì con la speranza che Isola possa diventare sempre di più una città, la città della pace e della scienza. Al meeting hanno preso parte diversi esponenti politici tra cui da remoto la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ma anche numerosi scienziati provenienti da tutto il mondo. Nel nostro ambito io sono un astrofisico quindi la nostra conoscenza deve in qualche modo ha uno spettro diciamo legato alla conoscenza di base quindi sapere più cose sull'universo, su come funzionano i meccanismi della fisica all'interno di stelle, di galassie e così via sono qualche cosa da cui dobbiamo imparare non solo perché tecnologicamente e scientificamente hanno un ritorno importante per l'ottica dei telescopi, i raggi X e così via ma anche proprio per un fondo diciamo culturale sapere quanto siamo importanti, cosa siamo all'interno dell'universo dovrebbe darci anche una sensazione delle dimensioni, dell'importanza della nostra vita qui sulla terra di come la spendiamo al meglio, la dobbiamo spendere al meglio.